Dopo il grande successo della rassegna Cianfrusaglia, riproponete lunedì la vostra commedia che ha avuto grande successo? Sì, allora lunedì 11 qui all'Arena BCC di Tre Ponti, il GAF ripropone Un Scherz da Pret, che è la commedia che abbiamo proposto quest'anno nell'ambito della rassegna Cianfrusaglia e che effettivamente sì ha avuto un grande successo di pubblico perché abbiamo fatto 5 repliche, 5 serate, tutte piene. Per noi è stata una grossa soddisfazione, quindi chi non l'ha vista oppure chi la vuole rivedere, si vuole divertire come quest'inverno, noi siamo lunedì qui all'Arena BCC di Tre Ponti.